Ciao, abbiamo preparato tutto come si deve fino a stanotte, abbiamo trovato le attrici subito, ci sono imprevisti sempre improvvisi, bisogna fare conti con quelli, però l'importante è riuscirci le aspettative sono buone, poi ovviamente in montaggio tutto può cambiare la prima è andata bene, ma la seconda vediamo ciao 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 ciao